Sono stati 944 nuovi contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 25.461 tamponi processati secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Sanità. Il rapporto tra positivi e tamponi è ulteriormente sceso dal 4,4% di ieri al 3,7% di oggi. Non accenna a diminuire invece il numero dei decessi. In Sicilia sono morte altre 37 persone nelle ultime 24 ore. La buona notizia riguarda i guariti, numeri da record rispetto a ieri con 2.816 persone che non sono più positive. Su 44.267 attuali contagiati sono 1.373 le persone ricoverate negli ospedali, di cui 211 in terapia intensiva. Rispetto alle 24 ore precedenti si registrano 32 pazienti in meno nei reparti di degenza ordinaria e 4 in meno nelle terapie intensive. 42.683 soggetti positivi in isolamento domiciliare. La distribuzione dei 944 nuovi casi nell'isola vede ancora la provincia di Palermo registrare il maggior numero di contagi. Sono stati 291. 57 nuovi positivi in provincia di Agrigento, 177 a Catania, 137 a Messina, 141 a Trapani, 61 a Siracusa, 10 a Ragusa, 53 a Caltanissetta e 17 a Denna. Sicilia che assieme ad altre nuove regioni è stata classificata tra quelle a rischio basso dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute nel report settimanale diffuso oggi e che si avvia dunque a passare dalla zona rossa a quella arancione. Si attenne inserata l'ordinanza del Ministro Speranza ma ormai appare scontato che dalla prossima settimana nell'isola si allenteranno le misure restrittive in vigore dal 15 gennaio scorso. Grazie a tutti.